Le autostradi riguri diventano in materia di sicurezza un ambito unico sottoposto al controllo di un tavolo tecnico in modo da poter affrontare in maniera organica un tema che accomuna lavoratori di diversi settori e quanto prevede la legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. La vicepresidente della regione Sonia Viale ha spiegato che la delicatezza e le specificità della materia hanno suggerito su impulso delle organizzazioni sindacali e di un gruppo consigliare di opposizione di trasformare un protocollo di intesa esistente in una legge regionale. È stata quindi aggiunta una copertura finanziaria per i progetti volti a garantire la sicurezza del lavoro sui cantieri con 120.000 euro sui bilanci di previsione 2020-2022. Il tavolo tecnico che avrà funzioni di monitoraggio sulla sicurezza sulle tratte autostradali in relazione ai cantieri è quello già istituito nell'ambito del Comitato per la Sicurezza dei Lavoratori. La Viale ha anche evidenziato che la nuova legge ha l'ambizione di diventare riferimento nazionale sul tema dato che la Liguria purtroppo è stata al centro di eventi che fanno capire quanto sia fragile la rete infrastrutturale e quanto nel tempo sia stata carente la sensibilità dei concessionari su questo tema.